Parliamo adesso con il mister del Gessate, Doriano Finardi, commentiamo questa gara splendida nel secondo tempo da parte della tua squadra, a primo tempo equilibrato, forse qualcosina in più il Melegnano. Sì, sì sì, sappiamo che loro giocano con cinque difensori, fanno molta densità là dietro e anche in mezzo al campo, chiaramente abbiamo fatto fatica a trovare spazi, loro si chiudono molto bene, poi sono bravi nelle ripartenze, infatti abbiamo andato là a due situazioni già pericolose poco prima del gol, però francamente io ho visto una conclusione solo del Melegnano che è quella del gol quando noi eravamo in dieci perché su un fallo veramente molto grave sul nostro giocatore che non so neanche se è andato all'ospedale o che, è sanzionato solo con la munizione, per cui l'unico episodio in cui ci hanno messo in difficoltà, bravissimi, nei davanti i due attaccanti sono veramente molto bravi, ci hanno punito e abbiamo fatto fatica chiaramente. Nel secondo tempo però la tua squadra ha cambiato completamente registro, probabilmente intensità e ha messo sotto l'avversario. Sì, io credo che nel secondo tempo poi siamo usciti bene, abbiamo spinto bene sugli esterni così e credo che il pareggio sia ampiamente meritato e forse c'era una squadra che doveva vincere questa era il Gessate. Tra l'altro, maggior merito è alle capacità anche magari psicologiche della tua squadra, essere rimasti calmi anche quando siete rimasti in dieci e comunque aver raggiunto il pari. Sì, siamo stati compatti lo stesso, ho chiesto ai ragazzi e avevo paura che si allargassero un attimino e chiaramente poi dopo loro ci potevano punire in un'altra ripartenza perché poi eravamo anche sotto di un uomo. Anche lì, vabbè, espulsione di Borsotti, probabilmente c'era, però susseguente a una situazione veramente incredibile in mezzo al campo, hanno sanzionato un fallo di mano volontario. Dove il regolamento parla chiaro, su un passaggio, su una linea di traiettoria di passaggio, fallo volontario, l'arbitro è lasciato andare, vabbè. Però sono stati bravi, non si sono stati compatti, abbiamo spinto sugli esterni, palla a terra, abbiamo preso il pari e poi è stato bravissimo il loro portiere, una parata incredibile perché io credo che avremmo meritato sicuramente di vincere. Un buon campionato del Gessate, specialmente nell'ultima parte, si è soddisfatto? Sì, sì, no, abbastanza soddisfatto. Allora, noi siamo arrivati in promozione per caso perché abbiamo vinto il campionato in maniera inaspettata all'anno scorso di prima categoria, all'ultimo secondo, dell'ultima giornata. Per cui allestire poi una squadra di promozione all'ultimo momento, inserendo il gruppo dei giovani che è chiaramente fondamentale, diventa difficile. Per cui io ero già stato con la stessa esperienza, avevo vissuto a Settala, 7-8 anni fa. Il primo anno di promozione è devastante perché tu arrivi alla prima categoria e non hai i giovani. E quindi è chiaro che il girone di andata lo butti a cercare di sistemarti un attimino e perdi un sacco di tempo. Le classifiche parlano chiaro. Nel nostro girone, a parte l'Accademia, che è veramente un'ottima squadra, che non è promossa, tutte le altre neopromosse, se tu vai a vedere i gironi nostri, gli altri gironi di promozione, le neopromosse sono tutte nei bassi fondi della classifica. Invece il Gessate è in alto, molto vicino ai play-off, anche. Ma noi, no, il nostro obiettivo è la salvezza, chiaramente, perché c'eravamo già illusi di averla raggiunta qualche domenica fa. Poi dopo domenica abbiamo perso a Casal Maiocco, meritatamente, giocando una partita sotto tono. Dietro vincono, è un campionato stranissimo, molto corto e chiaramente è dura, è dura, perché noi il margine sulla quinta ultima mi sembra di sei punti. Sei punti con diciotto punti ancora a disposizione e non sono molti. Per cui bisogna stare molto attenti, bisogna raggiungere la quota 40, che ipoteticamente è la quota salvezza e poi dopo vedremo.